benvenuti in kiwi voi ragazzi scrivetelo nei commenti qual è il vostro cosplay da 10 che andremo a vedere vabbè ragazzi ovviamente dopo che come al solito già lo sapete vi siete iscritti al canale mettete like commentate e fa tutto il coso che dovete fare sempre daie 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 iniziamo subito a vedere i cosplay di tiktok ve lo dico già da subito che oggi sarò molto 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 stronzo e pignolo quindi proprio darò cercherò di dare voti bassissimi il più bassi possibile ok ragazzi quindi chi si ritroverà in questo video da aver avuto 2, 3, 4 non sarà friend perchè i video di oggi e così oggi sarò proprio super stronzo devo essere super pignolo quindi sarà proprio un 10 se ci sarà il 10 sudatissimo proprio la perfezione allora darò il 10 ragazzi voi invece fatemelo sapere nei commenti qual è il vostro cosplay da 10 allora vediamo qua tu non sei un cosplay secondo me non sei un cosplay e quindi da più fuori andiamo avanti sa ride sa ride e quindi dato che ta ridi passiamo un po' dato che ta ridi te do parrucca un po' sminchiata te do un 5 da pia però 5 tu solo parrucca un po' sminchiata il resto ci sta il resto ci sta tu invece sei un bel alastor devo dire complimenti complimenti a te alastor ma mi piace questo alastor un po' umanoide mi piace like di conseguenza ti sei meritato un bel 6 tu invece che fai? ah fai il make up cosa fa il make up? cosa fa il make up di quale di quale cosplay? non lo so non ho capito allora vediamo però devo dire il trucco è fatto molto bene il cosplay pure sembra molto molto dettagliato però vi si piastra la parrucca i dettagli della parrucca sono importanti ragazzi complimenti devo dire bello mi piace voto voto 8 tu invece sei di Jujutsu Kaisen e Gojo è un altro personaggio che non conosco e gli damo il voto gli sono caduto gli occhiali a gobo speriamo che non li scalza speriamo che non li scalza gli occhiali e comunque gli damo un gli damo 7 io gli damo 7 io gli damo 7 al gruppo alla coppia tu invece cosplayers contro cosplay vediamo quali cosplay hai fatto oh 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 complimenti bello bello mi piace proprio belli complimenti secondo me 8 e mezzo ci sta tutto rivediamoli vediamo bello mi piace molto 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 bello confermo il mio 8 confermo il mio 8 qui invece sembra l'alastor dal bastone bello 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 questo alastor umano è la versione demone mi piace complimenti raga 8 e mezzo 8 e mezzo ci sta tutto se vediamo la versione umana bello la versione umana non si vede spesso mi piace molto 8 e mezzo confermo allora invece sono il re e la regina il principe la principessa e che voto di damo secondo me 8 ce sta pure per loro devo essere più stronzo però stavolta con l'8 ve la cavate perché dettaglio del piumaggio mi piace parecchio 8 confermo il mio 8 per voi tu invece bello mi piace dark in closet te posso da un 7 e mezzo 7 e mezzo un original può essere un original tu invece sei velvet di credo di albin hotel credo sempre e te posso da te posso da un 7 e mezzo 7 e mezzo te posso da il lip sync molto fatto bene molto fatto bene il lip sync 7 e mezzo bello tu invece sei dei vocaloid non non so che personaggio sia dei vocaloid non conosco l'anime quindi il personaggio non lo conosco quindi ero un giudizio prettamente estetico voto 7 7 perché bello questo alastro te posso dire bello mi piace questa questi questa ricerca dei materiali particolari non molto comuni mi piace voto 8 e mezzo 8 e mezzo per te bello mi piace questi invece questi ah ci sta nato quindi 3 cosplay voto di gruppo voto di gruppo 8 e mezzo 8 e mezzo fatti molto bene mi piace complimenti 8 e mezzo loro invece sono le superchicche no no non sono superchicche blossom blossom ppc vabbè io le chiamano superchicche non so se sono loro fatelo sapere voi nei commenti se lo sapete voto per voi complessivamente un bel 9 9 così così 9 mi piace mi piacete mi piacete proprio io le chiamo superchicche 9 per le superchicche bello bello non so chi tu sia ma sei molto figo posso dirlo questo rosso fosforescente fluo mi piace parecchio mi piace però questo rosso fluo molto figo con le luci sugli occhi wow il fumo raga io sono pazzo per il cospe con il fumo quindi ti sei meritato un bel 9 e mezzo tu invece secondo me sei sei tu invece sei di genshin impact può essere kimeko non so se di genshin impact però un 6 e mezzo te do 6 e mezzo e like 6 e mezzo e like perché perché fai video non si fanno da qua voto complessivo ci sono altri cosplayer in mezzo voto complessivo ti posso dare un 8 e mezzo 8 e mezzo complessivo perché sono tutti figli loro invece voto che voto gli do voto 6 6 non va piate ma è 6 così che voto te posso dare te do un bel 6 e mezzo molto bello mi piace mi piace e quindi ragazzi abbiamo visto questi cosplay nel mio tiktok questi cosplay fatemi sapere invece voi nei commenti che voto gli date a questi cospi mi raccomando iscrivetevi al canale e fatelo sapere nei commenti che voto gli date a questi cospi gli ho detto due volte mi raccomando facitilo va bene ragazzi noi ci vediamo al prossimo video mi raccomando iscrivetevi al canale Shogari Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale